Prima di iniziare a vendere online, devi tenere in considerazione alcuni elementi che ti permetteranno di salvare davvero tanti soldi invece di buttarti al capofitto, come fanno troppi imprenditori sprecando una marea di soldi. Allora, non tutti i business hanno la possibilità di avere successo online. I business più critici sono quelli dei rivenditori e dei commercianti. Questo perché questo tipo di attività al proprio negozietto lavora con i suoi clienti abituali che, tutto sommato, sono contenti del servizio che gli offrite, magari della cordellità, si crea una relazione, eccetera, e continuano a comprare da voi. Nel momento in cui voi andate a togliere questa piccola caratteristica, questo vantaggio che voi avete, andate a competere online con altri migliaia, decine di migliaia, in alcuni casi anche di più, concorrenti vendendo lo stesso identico prodotto e ciò che fa la differenza è semplicemente il prezzo. Quindi se io devo comprare una bottiglia d'acqua così e la trovo in dieci negozi diversi, in uno costa 10 euro, in uno 9,80 euro, in uno 9,60 euro, in uno 11 euro, eccetera, la scelta ricadrà sempre, tendenzialmente, verso il venditore che ha il prezzo più basso ed è esattamente la situazione in cui noi non vogliamo mai trovarci. In alternativa, la scelta ricade nell'acquisto di siti dove siamo sereni, siamo sicuri dell'acquisto, come ad esempio Amazon, perché sappiamo che lì qualunque cosa accada siamo tutelati, in ogni caso entriamo in una guerra del prezzo dove un piccolo commerciante difficilmente riesce a competere. Questo è il primo step. Il secondo punto riguarda la forza di investimento pubblicitario, quindi il budget che andiamo a investire per convincere un cliente ad acquistare da noi, perché il problema è l'opposto, nel senso che noi investiamo per convincere le persone a comprare da noi un prodotto, gli facciamo venire voglia di comprare questa bottiglia d'acqua, poi vedono che online un concorrente la vende a un prezzo minore e cosa fa? Va a comprarla da lui. Ed è un problema perché noi abbiamo investito soldi per convincere la persona a scegliere noi e invece va a scegliere il nostro concorrente. Quindi di fatto abbiamo fatto pubblicità al concorrente. Cosa comporta? Che il costo per riuscire a fare una vendita cresce sempre di più. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica. Quando noi investiamo online, noi investiremo tot soldi per riuscire a fare una vendita. Quindi partiamo da questo presupposto, cosa che spesso non è chiara ma è fondamentale. Per cui io investo 100 euro, economie 100 euro, faccio due vendite, tre vendite, una vendita. Ovviamente dipende dal tipo di business, eccetera. Questo investimento che noi facciamo per ottenere una vendita deve essere inferiore rispetto a quanto una vendita ci faccia guadagnare. Ma vendere online oggi, con la concorrenza che c'è, non è facile. Non puoi sperare di riuscire a vendere online a pochi centesimi di euro o pochi euro e quindi riuscire a marginare con il tuo prodotto. Quindi se tu sei un commerciante e rivendi, l'online spesso non fa per te. Ti conviene probabilmente appoggiarti a servizi che fanno questo, quindi vari marketplace che può essere da Amazon a servizi più specifici. Vendi auto, auto scout, eccetera. Perché spesso il costo per riuscire a ottenere una vendita è inferiore rispetto a quella che devi investire tu vendendo. Poi c'è una serie di effetti collaterali ed effetti negativi infinita, perché se vendi su Amazon hai dei costi esagerati, devi dare delle garanzie esagerate, tutto il rischio praticamente sulle tue spalle, eccetera, eccetera. Cosa che alla fine dei conti quasi non ti conviene fare. Per cui prima di iniziare a pensare di vendere online, chiediti se il tuo prodotto o servizio ha senso di essere venduto online e se quello che vendi è un qualcosa che anche i tuoi concorrenti possono vendere online e farlo ad un prezzo inferiore. Se la risposta è sì, allora l'online probabilmente non fa per te. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, dobbiamo sempre tenere in considerazione che quando noi entriamo nel mercato siamo un'opzione per il cliente insieme a tanti altri concorrenti. Se abbiamo qualcosa di unico, qualcosa che altri non hanno, allora sì, possiamo combattere una battaglia alla pari. Ma se noi entriamo in un mercato dove quello che vendiamo noi è identico a quello che vendono gli altri, non è una battaglia alla pari, è una battaglia dove noi ne usciremo assolutamente sconfitti, perché ci sarà sempre qualcuno che può fare un prezzo più basso del nostro e quindi portarci via ai clienti e lasciarci completamente senza margine. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!